Capitolo terzo Tutti i sabati, dalle quattro alle sei, Madame des Forges offriva una tazza di tè e dei biscottini ai suoi intimi che andavano a trovarla. L'appartamento era al terzo piano, nell'angolo della rue de Rivoli e d'Alger, e le finestre dei due salotti davano sui giardini delle tuyeri. Proprio quel sabato, mentre un servitore stava per farlo entrare nella sala grande, Mouret vide dall'anticamera per una porta socchiusa Madame des Forges che attraversava il salotto. Si era fermata scorgendolo, ed egli entrò e la salutò con aria cerimoniosa. Ma appena il servitore ebbe chiuso la porta, prese vivamente la mano della signora e la baciò con amore. «Pata, c'è gente!» disse lei piano additando la porta della sala. «Sono venuta a cercare questo ventaglio per farlo vedere». E con la punta del ventaglio gli diede allegramente un colpettino sul viso. Era bruna, di fisico robusto, con due grandi occhi gelosi. Ma Mouret, tenendole sempre la mano, domandò «Verrà? Verrà, me l'ha promesso». Parlavano del barone Hartmann, direttore del credito fondiario. Madame des Forges, figlia di un consigliere di Stato, era vedova ad un giocatore di borsa che le aveva lasciato un patrimonio negato da alcuni, esagerato dagli altri. «Anche quando era vivo il marito», dicevano i maligni, «s'era mostrata riconoscente al barone Decker, che, coi suoi consigli da uomo pratico nelle cose della finanza, giovava assai alla sua casa. E dopo la morte del marito, quell'amicizia era certo durata, ancora, ma sempre discretamente, senza un'imprudenza, senza uno scandalo». Madame des Forges non si metteva mai in mostra, ed era ricevuta dappertutto nell'alta borghesia dove era nata. E ora che l'amore del banchiere, uomo scettico e fine, non era quasi più che un semplice affetto paterno, se lei si concedeva degli amanti, portava sempre in quelle passioncelle, in quei capricci, soddisfatti via via che nascevano e comunque nascessero, una prudenza e un'accortezza così delicate che tutte le apparenze erano salve, e nessuno avrebbe messo in dubbio a voce alta la sua onestà. Da principio, avendo visto Morei in casa di amici comuni, le era sembrato antipaticissimo. Poi si era data a lui come trascinata dal brusco amore col quale lui la saliva. Ed ora che egli tramava di aver dalla sua, per mezzo di lei, il barone Hartman, a poco a poco si sentiva presa da un affetto vero e profondo, e gli voleva bene con l'impeto di una donna di 35 anni che non ne confessa più di 29 disperata di saperla più giovane di lei e timorosa di perderlo. «Lo sa come stanno le cose?» riprese lui. «No, glielo spiegherete voi», rispose lei smettendo di dargli del tu. Lo guardava e pensava che non doveva saper nulla se si serviva così di lei presso il barone e mostrava di reputarlo un vecchio amico soltanto. Ma lui seguitava a stringerle la mano, chiamandola la sua buona Henriette, ed ella si sentiva struggere il cuore. In silenzio gli tese le labbra e le premette sulle sue, poi a voce bassa «Zitto, ma aspettano! Entra dopo di me!» Dalla sala venivano voci sommesse, ammorbidite dalle portiere. Ella spinse la porta, che lasciò aperta due battenti, e porse il ventaglio a una delle quattro signore che stavano a sedere in mezzo alla sala. «Eccolo», disse. «Non sapevo più dove l'avevo messo. La cameriera non me l'avrebbe trovato!» E, volgendosi, aggiunse con la sua aria allegra «Entrate, entrate, Messie Mouret! Passate dal salottino! Sarà un ingresso meno trionfale!» Mouret salutò le signore, che conosceva già. La sala, coi suoi mobili alla Luigi XVI, di broccato a mazzolini, coi suoi bronzi dorati, le sue grandi piante verdi, aveva una dolce intimità nonostante l'altezza del soffitto. E, attraverso le tre finestre, si vedevano gli ipocastani delle tuieri, delle quali il vento di ottobre spazzava via le foglie. «Ma è bellino questo chantilly!» esclamò Madame Bourdelet, che aveva in mano il ventaglio. Era una biondina di trent'anni, dal naso fine, dagli occhi vivi, amica di Henriette, fino da quando erano insieme al conservatorio. Aveva sposato un capo sezione del Ministero delle Finanze. Di vecchia famiglia borghese, ella portava avanti la casa e i suoi tre bambini con una operosità, una grazia, un senso squisito della vita pratica da non dirsi. «E hai pagato latrina venticinque franchi?» riprese ella, esaminandola maglia a maglia. «No, non è caro, ma devi aver speso anche per la montatura.» «Eh, sicuro!» rispose Madame des Forges. «La montatura mi costa duecento franchi.» Allora Madame Bourdelet si mise a ridere. «Questa, Henriette, la chiamava un'occasione. Bella occasione, duecento franchi, una semplice montatura d'avorio con una cifra. E per un pezzettino di chantilly che le aveva fatto risparmiare cinque franchi. Per centoventi si avevano gli stessi ventagli belle montati. E disse il nome di un magazzino, In Rue Poissonnier. Il ventaglio faceva intanto il giro di mano in mano. Madame Ghibal gli dette appena un'occhiata. Era una donna alta e sottile, coi capelli rossi, con un viso che non diceva niente. Ma sotto quell'aspetto muto, i suoi occhi grigi facevano di tanto in tanto scorgere la terribile cupidigia dell'egoismo. Non si faceva veder mai col marito, che era un avvocato conosciuto per i tribunali e che, dicevano, conduceva liberamente la sua vita, dedicandosi per intero ai suoi affari e correndo la cavallina. «Oh!» mormorò, passando il ventaglio a Madame de Boves. «Io, in vita mia, non credo d'averne comprati due. Di ventagli me ne regalano anche troppi.» La contessa rispose con sottile malignità. «Come dovete essere contenta, cara, d'avere un marito così galante.» E, chinandosi verso la figlia, una ragazzone di vent'anni e mezzo, «Guarda! Guarda la cifra, Blanche! Che bel lavorino! Deve essere per via della cifra che la montatura è costata tanto cara.» Era una bella donna, appena passata la quarantina, con un portamento da dea, con un volto regolare e dei grandi occhi languidi. Suo marito, ispettore generale degli stalloni, l'aveva sposata per la bellezza. Sembrava ora tutta commossa dalla delicatezza di quei ghirigori del ventaglio, quasi presa da un desiderio che le velava lo sguardo. E, a un tratto, «Che ve ne pare, Monsieur Mouret? È troppo cara per duecento franchi questa montatura?» Mouret era rimasto ritto in mezzo alle cinque signore, sorridendo e prendendo viva parte a ciò che dicevano. Si fece dare il ventaglio, l'esaminò e stava per pronunciare il suo parere. Quando il servitore aprì la porta annunciando «Madame Marti», entrò una signora magra, brutta, butterata dal vaiolo, vestita con ostentata eleganza. Non si poteva dire che età avesse. I suoi 35 anni parevano 30 o 40, secondo la febbre nervosa che l'animava. Le pendeva dalla destra una borsa di pelle rossa. «Scusate», disse ad Henriette, «se con questa borsa, figuratevi che mentre venivo da voi sono entrata al paradiso. Ho fatto una delle mie solite pazzie e non ho voluto lasciarla nella carrozza per paura che me la rubassero». Ma si accorse che c'era Mouret e ridendo rispose «Ah, non l'ho detto mica per farvi pubblicità. Non m'ero accorta che eravate qui. Avete al paradiso delle trine che sono una delizia». Non si occuparono più del ventaglio e Mouret lo posò sopra un tavolino. Le signore ora non ne potevano più dalla curiosità di vedere cosa avesse comprato la Marti. Sapevano tutte come avesse le mani bucate e non potesse resistere ad una tentazione. Onestissima, incapace di cedere a un amante, cadeva subito senza resistenza davanti a uno straccio qualsiasi. Era figlia ad un impiegatuccio e rovinava il marito, professore del liceo Bonaparte, che doveva raddoppiare i 6.000 franchi dello stipendio con tante lezioni private per far fronte alle spese sempre crescenti della casa. Ma lei non apriva la borsetta, la teneva sulle ginocchia e parlava con sua figlia Valentin, che era sui 14 anni, una delle sue civetterie più costose perché la vestiva sempre come lei, con tutte le novità della moda alle quali non sapeva resistere. «Avete visto? Quest'anno per le ragazzine si usano vestiti con una trina. Io ho visto una Valencian graziosa in un modo e, finalmente, stava per aprire la borsa. Già le signore allungavano il collo quando, in quel silenzio, si sentì suonare il campanello di casa. «Eh, mio marito!», balbettò la Marti con turbamento. «Deve venire a cercarmi quando esce dal liceo». Richiuse subito la borsa e, con un moto istintivo, la nascose sotto la poltrona. Tutte le signore fecero una risata. Arrossì allora per la sua furia. Riprese sulle ginocchia la borsa, dicendo che gli uomini non capiscono mai e che, di conseguenza, non c'era bisogno di andare a spifferargli ogni cosa. «Messier de Boves, messier de Valagnoche», annunziò il servitore. Si meravigliarono tutti. La stessa madame de Boves non aspettava suo marito, il quale baciò la mano di madame des Forges, che aveva conosciuta da ragazza. Era un bell'uomo. Portava baffi e pizzo e aveva quell'aspetto da militare e da gentiluomo che piaceva le tuieri. Si mise subito da parte perché il suo compagno, giovanotto d'un pallore aristocratico, potesse anche egli salutare la padrona di casa. Ma appena la conversazione ricominciò, si alzarono due leggeri gridi. «To! Paul! Guarda! Octave!» Moreva la gnoche, si strinsero la mano. «Si conoscono dunque?» domandò tutta sorpresa madame des Forges. «Si conoscevano sicuro. Erano cresciuti insieme nel collegio di Plassan, ed era proprio un caso che non si fossero imbattuti prima da lei. E così, sempre per mano, andarono scherzando nel salottino, mentre il servitore portava il tè, in un servizio cinese sopra un vassoio d'argento, che posò accanto a madame des Forges, sopra un tavolino di marmo, con un leggero orlo prominente di rame. Le signore si strinsero insieme, discorrendo a voce più alta, tutta attente alle parole che si incrociavano, e Debove, dritto, dietro di loro, si chinava ogni tanto per dir la sua con galanteria di bell'impiegato. La sala, già di per sé tanto allegra, si rallegrava ancor più in quel chiacchiericcio interrotto da risate. «Ah, Paul! Paul!» ripeteva Moret. Si era messo a sedere accanto a Vallagnos, sopra un canapè, e, soli in fondo al salotto, che era graziosamente tappezzato di seta a bottoncini d'oro, lontani dalle orecchie delle signore, le quali non vedevano se non per la porta spalancata, si misero a sogghignare guardandosi l'un l'altro e dandosi dei colpetti sulle ginocchia. Tutta la loro giovinezza si risvegliava. Il vecchio collegio di Plassans, con le sue due classi, le camerate umide e il refettorio, dove in capo a un anno si mangiava tanto merluzzo, e il camerone, dove i cuscini volavano da un letto all'altro appena il prefetto russava. Paul, che apparteneva a una famiglia di parlamentari, di bassa nobiltà, impoverita e stizzosa, scriveva molto bene, sempre il primo, preso continuamente ad esempio per gli altri dal professore, che prevedeva per lui il più splendido avvenire, mentre Octave, sempre tra gli ultimi, se ne stava tra le bestie, grasso e contento, dandosi interamente fuori del collegio alla violenza dei piaceri. Per quanto così di simili dindole, erano divenuti inseparabili fino all'esame di licenza, che avevano superato l'uno con l'ode, l'altro a pedate, dopo averci provato due volte. Poi erano stati travolti dalla vita, e si ritrovavano dopo dieci anni già vecchi e mutati. «Di un po', chiese Muret, che fai ora di bello?» «Nulla». Balagnosh, anche se contento di aver trovato l'amico, non mutava la sua aria stanca e delusa, e siccome Muret, un po' meravigliato, insisteva dicendo «Ma insomma, qualche cosa devi fare! Che fai?» «Nulla», rispose da capo. Octave si mise a ridere. Nulla, era troppo poco. A pezzi e bocconi riuscì a sapere la storia di Paul, storia comune a tutti i giovani senza patrimonio che credono essere obbligati per la propria origine a pigliare una professione libera e che si accasciano in una vanitosa mediocrità, abbastanza contenti se non crepano di fame, pur avendo i cassetti zeppi di diplomi. Aveva studiato legge per tradizione di famiglia. Dopo era rimasto a carico della madre preoccupata per due figlie da casare. Finalmente si era vergognato e, lasciando le tre donne tirare avanti alla meglio con le briciole del patrimonio, si era adattato a un posticino nel ministero dell'interno e vi si teneva rannicchiato come una talpa nella sua buca. «E quanto guadagni?» chiese Mure. «3.000 franchi». «Dio santo! Povero figlio, mi dispiace per te! Ma come? Un ragazzo che ci metteva tutti nel sacco! E non ti danno che 3.000 franchi dopo averti rincretinito per cinque anni! No, no, non è giusto!» si interruppe e, pensando tra sé, «io poi feci loro una bella riverenza, eh? Sai, eh? Che cosa faccio io?» «Sì», disse Valagnoche, «mi hanno detto che fai... il commerciante». «Hai quel grande magazzino in Plasgaillon, non è vero? Sicuro! Il merciaio, figlio mio, il merciaio!» Mure aveva alzato la testa e gli diede di nuovo un colpo sul ginocchio, ripetendo col riso d'uno che non si vergogna affatto del mestiere che lo fa d'oro. «Merciaio! Proprio merciaio! Te ne rammenti! Io non capivo nulla in quei loro cabilli, per quanto in fondo in fondo non abbia mai creduto ad essere più bestia degli altri! Quando ebbi preso la licenza, tanto per accontentare la famiglia, sarei potuto anch'io diventare benissimo o avvocato o medico come i miei compagni, ma quei mestieri mi fecero paura. Sono in troppi a morire di fame e allora gettai all'ortica e la mia pelle d'asino senza rimpianto, eh! E mi buttai a capofitto negli affari. Ma la gnoche sorrideva un po' impacciato. Alla fine mormorò «Eh, sicuro! La licenza liceale non ti deve essere molto utile per vendere la tela!» «Basta!» rispose allegramente Mure. «Basta che non arrivino difficoltà finanziarie e, tu lo sai, quando si è fatta la sciocchezza di ficcarsi quei bastoni tra le gambe, non è poi facile correre. Si cammina come tartarughe, mentre gli altri, quelli che sono sciolti, vanno via, come il vento!» Poi, accorgendosi che il suo amico pareva turbato, gli prese la mano e seguitò «Via, via! Non lo dico mica per angustiarti! Ma devi confessare che i tuoi diplomi non t'han dato nulla di quanto desideravi tu! Sai che uno dei miei impiegati, il capo delle sete, quest'anno guadagnerà più di 12.000 franchi!» Si intende che è un giovanotto che ha la testa sulle spalle, ma insomma non va più in là dell'ortografia delle prime quattro operazioni. «Gli impiegati ordinari, da me, si beccano 3.000-4.000 franchi più di quanto guadagni tu! E la loro istruzione non è costata mica come la tua! E non li hanno mica scalaventati nel mondo, con la promessa che lo avrebbero conquistato! Lo so, il denaro solo non basta, sta bene! Ma tra i poveri diavoli impolverati di scienza, che si trovano ammucchiati fra le professioni libere, senza poter mangiare quando ne ha voglia, e i giovani pratici, belli e in arme per la guerra della vita, che conoscono per filo e per segno il loro mestiere, io, in fede mia, senza mai esitare, mi schiero con questi contro quelli! Mi pare che vuoi che ti dica, che capiscano più il tempo in cui sono nati!» Diventava eloquente, s'era riscaldato e alzava la voce. Henriette, che serviva al tè, s'era voltata. Quando la vide sorridente in fondo alla sala e s'accorse che altre due signore tendevano l'orecchio, fu il primo a ridere delle sue frasi. «Insomma, amico mio, ogni merciaio che si mette al banco oggi, 99 su 100, diventa milionario!» Balagnos si adagiava mollemente sul canapè. Aveva socchiuso gli occhi in un atteggiamento tra l'affaticato e lo sprezzante, nel quale c'era un po' d'ostentazione, e un po' dell'esaurimento vero della sua razza. «Ah!» mormorò. «La vita non merita tanta fatica! Non c'è più niente che diverta!» E, vedendo che Morello guardava con aria di profonda meraviglia, pronto a contraddirlo aggiunse «Vivere in un modo o nell'altro, in fondo è lo stesso, tanto vale starsene con le mani alla cintola!» Allora si mise a spiegare il suo pessimismo. Una volta si era messo in testa di fare il letterato e dell'amicizia di poeti non gli era rimasta in mente che è una disperazione universale, e finiva sempre col concludere che ogni sforzo è inutile, che tutte le ore sono ugualmente vuote e noiose, che il mondo va avanti stupidamente senza scopo. I piaceri facevano cilecca. Nemmeno a far del male c'era più gusto. «Ma tu, sii sincero!» «Tu, ti diverti?» domandò alla fine. Morello era a poco a poco giunto a uno stupore sdegnato e «se mi diverto!» proruppe «Ah, vuoi sapere questo, povero figliolo! Ma sicuro che mi diverto io! E mi diverto perfino quando le cose vanno male, perché allora mi arrabbio nel vederla andare male! Io, la vita, non la piglio tranquillamente! Io ci prendo parte sempre e con passione! E per questo forse io mi diverto!» Diede un'occhiata verso la sala e aggiunse a bassa voce «Ah, donne che mi hanno dato noia! E molto! Ce ne sono, lo confesso! Ma quando ne ho presa una, ti giuro che non la lascio andare! E poi le donne contano fino a un certo punto! Alla fin fine, io me la rito delle donne! Quel che conta, vedi, è il volere e fare! È il creare, insomma! Tu hai un'idea, combatti per quella, la ficchia furia di martellate nel capo della gente e la vedi sempre più spandersi e trionfare! Ma sicuro, caro mio, che mi diverto!» Nelle sue parole vibrava tutta la gioia del lavoro, tutta l'allegria dell'esistenza. Ripeteva che era e si sentiva dei suoi tempi e che bisognava essere davvero fatto male o avere il cervello e le membra malate per non lavorare quando il secolo era secolo di foga operosa e di progresso. E canzonavi i disperati, gli annoiati, i pessimisti, sciupati dalla scienza ancora balbettante, i quali prendono o l'aria piagnucolosa da poeti o l'acre sorriso degli scettici, mentre intorno ferve l'immenso cantiere. «Bella parte starsene lì a sbadigliare davanti all'operosità sapiente e feconda degli altri!» «Eppure, il mio divertimento è proprio questo!» disse Valagnoche sorridendo col suo aspetto freddo. Il fuoco di Moret si spense di botto. Ritornò affettuoso. «Sempre lo stesso il mio Paul! Sempre con i suoi paradossi! Ma già, noi non ci siamo mica trovati qui per litigare! Ciascuno le sue idee! Ed è bene che sia così! Ma ti farò vedere la mia macchina in moto e t'accorgerai che non è poi una cosa tanto stupida!» «Via, dammi un po' qualche notizia! Tua madre, sta bene! Le sorelle? Non ti dovevi ammogliare sei mesi fa a Plassin?» Un moto brusco di Valagnoche lo interruppe e, vedendo che aveva gettato nella sala un'occhiata inquieta, si volse anche lui e si accorse che la Mademoiselle de Beauve non levava a loro gli occhi di dosso. Blanche, alta e forte, somigliava alla mamma, ma stava già diventando trappo grassa, d'un grasso bolso. Paul rispose che niente era ancora fissato e forse non avrebbe mai fatto nulla. Aveva conosciuto la signorina dalla Desforges, dove l'inverno passato era venuto spesso, ma ora veniva di rado ed ecco il perché non si erano mai incontrati. Anche i de Beauve lo ricevevano e a lui piaceva soprattutto il padre, uomo amabilissimo, viveur, che si preparava nell'impiego un ospizio per la vecchiaia. Soldi, poco o niente, Madame de Beauve non aveva portato al marito che la sua bellezza digiunone e la famiglia tirava avanti alla meglio con la rendita di una fattoria, l'unica che fosse loro restata e piena di ipoteche. Per fortuna c'era il rinforzo dei 9.000 franchi che il conte aveva come ispettore generale degli stalloni e le signore, madre e figlia, tenute a secco da costui che fuori aveva sempre, purtroppo, delle passioncelle, qualche volta erano ridotte a rifarsi da sei vestiti. «Allora, perché la prendi?» «Dio buono! O prima o poi tanto bisogna arrivarci!» disse Balagnosh, battendo con un moto stanco le palpebre. «E poi?» «Delle speranze ce ne sono. Aspettiamo che una zia si decida a... andarsene!» Mouret, che non levava gli occhi da de Beauve, seduto accanto a Madame Ghibal, tutto premuroso, col sorriso di un uomo che comincia a far la corte, si rivolse in quel mentre all'amico e strizzò l'occhio con un moto tanto espressivo che questi soggiunse «No, non è lei, almeno per ora. La disgrazia è che i doveri dell'impiego lo fan correre in lungo e largo tutta la Francia» e che così ha dei pretesti continui per andarsene. Il mese scorso, mentre la moglie credeva che fosse a Perpignan, lui se ne stava in un albergo con una maestra di pianoforte, infondando un quartiere fuori mano. Si interruppero. Poi Balagnos, che a sua volta sorvegliava le galanterie del conte per Madame Ghibal, riprese sommessamente. «Hai ragione, perbacco. Tanto più che quella cara signora non è poi a quel che dicono un fior di virtù. Mi hanno raccontato una certa storiella ad un ufficiale. Ma guardalo com'è grazioso ora che prova a magnetizzarla facendo l'occhio di triglia. La vecchia Francia, caro mio, io a quell'uomo lì gli voglio un bene, che se sposo la figlia potrà proprio dire che l'ho fatto per lui». Muret se la godeva e rideva. Fece altre domande a Balagnos e, quando seppe che l'idea di Darlie Blanche era venuta da Madame des Forges, il fatto gli parve anche più curioso. Henriette, buona com'era, provava un gusto matto da vedova a combinare matrimoni e, spesso, quando aveva pensato alle figlie, le accadeva di permettere che i papà si scegliessero delle amiche nel suo salotto. Ma tutto ciò naturalmente con tanta buona grazia, che il mondo non ci poteva mai trovare argomento di scandalo. E Muret, che le voleva bene da uomo che ha molto da fare e da fretta, dimenticava allora ogni arte di seduzione e sentiva per lei un'amicizia da buon compagno. Proprio in quel momento, ella comparve sulla porta del salottino, seguita da un vecchione di circa sessant'anni che i due amici non avevano veduto entrare. Le signore davano di tanto in tanto in piccole grida alle quali faceva ad accompagnamento il tintinio dei cucchiaini nelle tazze cinesi, e si sentiva ogni tanto, tra un breve silenzio, il rumore di un piattino posato sul marmo del tavolino. A un tratto, un raggio di sole che tramontando era apparso in cima a un nuvolone, indorava le vette degli ipocastani del giardino, ed entrava attraverso le finestre con un polviscolo d'oro che ravvivava il broccato e gli ornamenti dorati dei mobili. «Di qui, caro barone», diceva Madame des Forges, «vi presento Monsieur Octave Muret, che ha vivissimo desiderio di attestarvi la sua grande ammirazione». E volgendosi ad Octave aggiunse «il barone Hartmann». Un sorriso increspò argutamente la barba del vecchio. Era un uomo piccolo e vigoroso, con una grossa testa alsaziana e con un grosso viso che si accendeva della fiamma dell'intelligenza al minimo increspar della bocca o batter degli occhi. Da quindici giorni si schermiva da Henriette, che gli chiedeva quell'abboccamento. Non che sentisse una gran gerosia, rassegnato come era da uomo di spirito alla parte di padre, ma perché era quello il terzo amico di cui Henriette gli faceva fare la conoscenza e alla lunga temeva un po' di diventare ridicolo. Per questo, davanti a Octave, fece il sorriso discreto di un protettore ricco, che, se consente a mostrarsi cortese, non vuole però essere ingannato. «Ah», diceva Muret, col suo entusiasmo da provenzale, «che operazione è stata quella del credito fondiario? Non le posso dire quanto sia contento orgoglioso di stringerle la mano». «Troppo buono, troppo buono», badava a ripetere il barone, sempre sorridendo. Henriette lo guardava con i suoi occhi limpidi, senza nessun imbarazzo. Restava in mezzo a loro, alzava la sua testolina graziosa, andava dall'uno all'altro, e nella sua veste di trina, da cui uscivano i polsi e il collo delicati, pareva fuori di sé dalla contentezza nel vedere quei due così d'accordo. «Signori», disse finalmente, «vi lascio perché discorriate in pace». Poi, volgendosi a Paul, che si era alzato, riprese «Volete una tazza di tè, monsieur Valagnon? Volentieri, signora!» e rientrarono insieme nella sala. Muret riprese il suo posto sul canapè, facendo sedere prima il barone. Allora ricominciò a prodigarsi in elogi sulle operazioni del credito fondiario, e mano a mano entrò nell'argomento che più gli stava a cuore. Parlò della nuova strada, del prolungamento di Rue de Remours, di cui stavano per aprire una parte con il nome di Rue de D'Desambre, tra la piazza della Borsa e quella dell'Opera. L'espropriazione per pubblica utilità era stata decretata da un anno e mezzo, il giurì stava per essere nominato, e tutto il quartiere si appassionava per quell'apertura, discutendo in quanto tempo ci avrebbero messo mano sulle case da demolire. Erano quasi tre anni che Muret aspettava quei lavori, da principio prevedendo un rialzo nel commercio, poi con ambiziose speranze di ingrandimenti che non osava neppur confessare ad altavoce. Tanto il suo sogno andava sempre ingigantendosi. Poiché Rue de D'Desambre doveva tagliare la Rue Choiseul, e Rue de la Michaudière gli pareva già di vedere il paradiso delle signore invadere tutta l'isola formata da quelle due vie e da Rue Neuf Saint-Agustin, e se l'immaginava di già con una facciata da palazzo sulla nuova strada, dominando da signore assoluto la città. Da ciò era nato il suo vivo desiderio di conoscere il barone Hartmann, appena aveva saputo che il credito fondiario aveva preso l'impegno con un contratto di tagliare e costruire Rue de D'Desambre a patto che gli fosse ceduta la proprietà di terreni da fabbricare. Davvero? Ripeteva Mouret, cercando di avere un'aria da ingenuo. La strada la consegneranno bella e finita con le fogne, i marciapiedi, i lampioni e i terreni da fabbricare basteranno a compensarli. È una cosa da non credere. Finalmente arrivò al punto delicato. Aveva saputo che il credito fondiario faceva di nascosto comprare le case dell'isola dove era il paradiso delle signore, non soltanto quelle che era necessario demolire, ma anche le altre, e subodorava in ciò il disegno di qualche futuro stabilimento e gli dava noia il pensiero di potere un giorno, nei suoi ingrandimenti, scontrarsi con una potente società che non avrebbe certamente venduto le proprie case. Questa paura l'aveva fatto decidere a cercare un vincolo che lo stringesse al barone, quel vincolo femminile che dura così saldo tra uomini per natura galanti. Avrebbe certamente potuto parlare col barone nello studio di lui e discutere in pace del grosso negozio che aveva in animo di proporgli. Ma si sentiva più forte in casa del Riet, perché sapeva quanto il possesso comune di una donna rabbicini addolcisca. In casa di lei, avvolti nel suo profumo, con lei pronta a convincerli con un sorriso solo, il buon successo gli sembrava sicuro. «Non ha comprato, mi scusi, il Palazzo du Vilar, quella baracca che mi sta a ridosso?» chiese alla fine bruscamente. Il barone Hartman esitò un istante e poi negò, ma guardandolo in faccia, Muret si mise a ridere e da quel momento fece la parte di un buon giovanotto che tratta gli affari semplicemente, col cuore in mano. «Guardi, signor barone, dato che ho avuto l'onore e insperato di conoscerla, bisogna che mi confessi. O non le domando i suoi segreti, voglio soltanto dirle i miei, persuaso di non poterli porre in mani più sagge. E poi ho bisogno dei suoi consigli. Da molto tempo volevo venirla a trovare e non osavo». Si confessò davvero. Raccontò il principio della sua fortuna. Non nascose nemmeno il pericolo che correva ora in mezzo al trionfo. Disse tutto. Gli ingrandimenti fatti l'uno dopo l'altro. I guadagni, sempre rinvestiti in quel negozio. Le somme dategli dagli impiegati. Il magazzino che rischiava di fallire ad ogni nuova apertura della vendita, perché tutto il capitale era ogni volta giocato su una carta sola. Eppure non chiedeva denaro. Lui, nella sua clientela, aveva una fede da fanatico. La sua ambizione era più alta. Proponeva al barone un'associazione in cui il credito fondiario metterebbe il palazzo sterminato che egli sognava. Lui, il suo ingegno e il commercio già avviato. Avrebbero fatto il conto di quel che ciascuna parte metteva. Gli pareva la cosa più facile del mondo. «Che ne vogliono fare dei loro terreni e dei loro immobili?» domandava con insistenza. «Un'idea devono averla. Non c'è dubbio, ma io sono sicuro, sicurissimo, che la mia è la migliore. Ci pensi un po'. Edifichiamo sui terreni una galleria. Buttiamo giù o adattiamo le case e apriamo i magazzini più grandi di Parigi. Un bazar che incasserà dei milioni». E lasciò sfuggire questo grido che gli veniva dal cuore. «Ah, se potessi fare a meno di loro! Ma ora hanno tutto in mano loro. E poi non riuscirei mai a trovare prestiti sufficienti. Via, bisogna che ci intendiamo. sarebbe un assassino!» «Adagio! Adagio, caro signore!» si contentò di rispondere il barone. «Che popò di immaginazione!» Scuoteva la testa e continuava a sorridere, risoluto a non dir nulla. Il disegno del credito fondiario era di edificare in Rue du Didesambre un albergo rivale del Gran Hotel, una locanda di lusso nel centro della città fatta apposta per attirare i forestieri. D'altra parte, l'albergo non doveva occupare che i terreni di fianco e il barone avrebbe avuto sempre le mani libere per trattare con Mure, quanto al resto delle case che erano sempre una bella superficie. Ma era già divenuto socio di due amanti del Riet e si era stancato di quel suo fasto da protettore compiacente. Inoltre, per quanto intraprendente egli fosse, e disposto ad aprire la sua borsa a tutti i giovani, intelligenti e coraggiosi, la proposta di Mure, così audace ed enorme, lo meravigliava più di quel che gli piacesse. Quel magazzino smisurato non era un'impresa utopistica e imprudente. A forza di allargare a quel modo il commercio delle novità, non si andava forse incontro a una rovina sicura. Non ci credeva e non ne voleva sapere. L'idea non c'è dubbio, può allettare. Ma il male sta qui, che è un'idea da poeta, dove li troverete i clienti per riempire una cattedrale di questa grandezza. Mure lo guardò un po' senza aprire bocca, quasi stupito dal rifiuto. Com'era possibile che un uomo di quella cume, che fiutava il denaro nascosto a qualsiasi profondità, non capisse la cosa. E a un tratto ebbe un gesto d'alta eloquenza. Tese il braccio e additò le signore nella sala esclamando «I clienti? Eccoli là, i clienti!». Il sole tramontava. Il pulviscolo d'oro acceso non era più che un chiarore biondo, morente tra la seta delle tende e sulle stoffe dei mobili. Nell'avvicinarsi del crepuscolo, una dolce intimità inondava la sala ad un molle tepore. Monsieur de Beauvais e Paul de Vallagnos chiacchieravano nel vano di una finestra, con lo sguardo vagante nell'orizzonte lontano. Le signore si erano accostate l'una all'altra e facevano nel mezzo uno stretto cerchio di sottane da dove salivano risa. Parole bisbigliate. Domande e risposte incrociantensi, tutta, insomma, la passione della donna per le spese e per i cenci. Discorrevano dei vestiti. Madame de Beauvais descriveva un vestito da ballo. «Sotto, un trasparente di seta mauve e qui sopra tante gale di trina antica d'Alençon, alta 30 centimetri». «Davvero?», interruppe Madame Martí. «Ah, ci sono di grandonne felici a questo mondo!». Il barone Hartman, che aveva seguito il gesto di Moré, le guardava per la porta spalancata e le ascoltava con un orecchio, mentre Octave, infiammato dal desiderio di convincerlo, gli si confidava anche più apertamente, spiegandogli il meccanismo del nuovo commercio delle novità. Il bandolo di questo commercio era uno solo, il giro continuo e rapido del capitale che bisognava trasformare in merci quante più volte in un anno fosse possibile. Quell'anno, per esempio, il suo capitale, che era di soli 500.000 franchi, aveva fatto il giro quattro volte ed aveva così prodotto per due milioni. Una inezia. Doveva fruttare dieci volte di più, perché affermava, che era sicuro di fare fra poco, in modo che il capitale dovesse in certe sezioni rispendersi e rincassarsi 15 o 20 volte. Lei capisce, signor Barone, che tutto il meccanismo sta lì. È una cosa semplicissima, ma bisognava inventarla. Non abbiamo bisogno di molto denaro. Il nostro unico sforzo è di far presto a disfarci delle mercanzie comprate per comprarne delle altre. Così il capitale dà frutto tante volte quanto era investito e noi possiamo contentarci di un guadagno piccolissimo. Siccome le spese generali raggiungono l'enorme cifra del 16% e noi non prendiamo sugli oggetti che il 20% di guadagno, il frutto è soltanto del 4%. Ma saranno milioni quando si tratterà di una grande quantità di merce e la rinnoveremo continuamente. Mi spiego? È una cosa semplicissima. Il Barone tentennò di nuovo il capo. Lui, che aveva protetto le imprese più ardite che era ancora famoso per la sua audacia nei primi tentativi dell'illuminazione a gas, restava duro e non persuaso. Capisco, rispose. Voi vendete a buonissimo prezzo per vendere molto, ma bisogna vendere però. Ed io vi domando da capo, a chi venderete? Come potete sperare di tenere viva una vendita così enorme? Uno scoppio di voci che veniva dalla sala interruppe le spiegazioni di mure. Era la Ghibal, la quale diceva che le gale di trina antica d'Alençon le sarebbero piaciute di più messe soltanto a grembiule. Ma, cara mia, diceva l'Adebov, anche il davanti è tutto trine. Un vestito così ricco non l'ho visto mai. Oh, mi suggerite una cosa, rispondeva l'Adeforge. Ho dei pezzetti di trina d'Alençon. Bisogna che ne compri dell'altra per fare una guarnizione. E le voci si smorzarono in un tenue mormorio, nel quale pareva passassero carrozze tiepide e volutuose. Ogni tanto si sentiva «Costa tanto, costa meno». Pareva sfogliassero il catalogo dei magazzini. I desideri si aguzzavano. Le signore compravano trine a piene mani. «Heh!» disse finalmente Moré, quando pote parlare. «Pur di sapere vendere, si vende quel che si vuole. La nostra vittoria sta lì». Allora, col suo brio da meridionale, con frasi calde che suscitavano l'immagine delle cose, mostrò il nuovo commercio nella nevrosi del lavoro. Disse dapprima della potenza dell'ammucchiamento, fatta dieci volte maggiore. Tutte le mercanzie accumulati in un punto solo, sorreggendosi a vicenda e a vicenda raccomandandosi. Non un momento di riposo. La roba di stagione, sempre pronta, e di banco in banco la compratrice era presa. Qua pigliata la stoffa, più in là il filo, in un altro posto il mantello, si vestiva. Poi si imbatteva in qualcosa che non s'aspettava e doveva cedere al bisogno dell'inutile e del grazioso. Poi esaltò i «prezzi in numeri veri». La grande rivoluzione delle novità dipendeva dal prezzo fisso. Se il vecchio commercio, il commercio minuto, dava l'ultimo respiro, era perché non poteva sostenere la guerra dei prezzi bassi. Mossali dal cartellino in numeri chiari e lampanti. La concorrenza si faceva sotto gli occhi stessi del pubblico. Chiunque passeggiasse davanti alle vetrine sapeva i prezzi della tal cosa e della tal altra. Bisognava che tutti i magazzini ribassassero e si contentassero del guadagno più piccolo possibile. Nessun inganno. Non più retate preparate da tempo su una stoffa venduta il doppio di quel che vale, ma affari correnti, un tanto per cento fisso su tutte quante le merci. E la fortuna consisteva nel buon procedere di una vendita larghissima, appunto perché fatta all'aperto, senza misteri. Non era una stupenda invenzione? Metteva sottosopra il mercato, trasformava Parigi perché era fatta con la carne o col sangue della donna. «Ho la donna io, mi infischio del resto», disse in una confessione brutale che gli fu strappata dal fervore col quale parlava. A quel grido il barone Hartman parve scosso. Il suo sorriso perdeva la sottile punta d'ironia e, vinto a poco a poco da quella fede, guardava il giovanotto per il quale cominciava a sentire dell'affetto. «Zitto», disussurrò paternamente. «Se no vi sentono». Ma le signore parlavano tutte insieme e si erano talmente eccitate che non stavano nemmeno a sentire. Madame de Boves stava finendo la descrizione del vestito da ballo, tunica color malva, il corpetto molto scollato con degli altri fiocchi di trina sulle spalle. «Vedrete», diceva. «Mi voglio fare un corpetto a quel modo, con un certo raso». «Io», interrompeva Madame Bourdelet, «ho comperato del velluto, un velluto, care mie, e l'ho pagato una miseria». Madame Martí chiedeva «Eh? Quanto costa la seta?» E tutte le voci si confusero da capo. La Ghibal, Heriette, perfino Blanche, compravano, tagliavano, accomodavano. Immaginavano di spogliare addirittura i magazzini, frenesia di lusso che si spandeva in abiti, ragione di sogni ed invidie. Era una tale e tanta felicità per loro quel sentirsi tra le stoffe, che ci vivevano dentro come nell'aria tiepida necessaria alla loro esistenza. Mure aveva frattanto dato un'occhiata nella sala e, in poche parole bisbigliate in un orecchio al barone, come se gli avesse fatto una di quelle confidenze di avventure amorose che gli uomini qualche volta arrischiano fra loro, terminò di spiegargli il meccanismo del gran commercio moderno. Allora, anche più in alto, proprio in vetta come fine ultimo, apparve lo sfruttamento della donna. Tutto andava a finir lì. Il capitale rinnovato incessantemente, il sistema d'ammucchiamento delle merci, l'esposizione che attrae, i prezzi in numeri veri che impediscono ogni sospetto di frode. La donna era quella che i magazzini si disputavano con la concorrenza, quella che pigliavano continuamente nel tranello delle loro occasioni straordinarie, dopo averlo assordita col lusso delle vetrine. Avevano svegliati in lei nuovi desideri. Erano una tentazione immensa, alla quale ella soccombeva fatalmente, cedendo da principio alle compere necessarie, poi vinta dalla civetteria e poi divorata. Facendo dieci volte maggiore la vendita, democratizzando il lusso, divenivano un terribile incitamento alle spese, buttavano all'aria le famiglie, eccitavano la pazzia della moda sempre più cara. E se la donna nei magazzini era regina, adulata e accarezzata nelle sue debolezze, circondata di cortesie, era una regina di cui i sudditi fanno mercato e che paga con una goccia di sangue ciascuno dei suoi capricci. Dalla grazia della sua galanteria, Mouret lasciava così trasparire la brutalità ad un ebreo, che vende la donna a un tanto alla libra. E le innalzava un tempio, la faceva incensare da una legione di commessi, inventava il rito di un culto nuovo. Ma non pensava che a lei, cercando senza mai requie seduzioni più forti e dopo, quando le aveva ben bene vuotate le tasche e sconquassata la fibra, era pieno del segreto disprezzo che un uomo ha per un amante che ha fatto la sciocchezza di concedersi. «Abbiate dalla vostra le donne», disse a voce bassa al barone, ridendo audacemente, «e venderete il mondo». Il barone aveva capito. Gli erano bastate poche frasi per indovinare il resto. E un commercio fatto con tanta galanteria lo infiammava e ravvivava in lui i suoi begli anni di viveur. Strizzava gli occhi accennando di aver, come si dice, mangiato la foglia e guardava ammirato l'inventore di quella macchina che si ingogliava le donne. Era una bella trovata davvero. Ma anche egli, come Burdoncle, ebbe a dire per la sua vecchia esperienza. «Badate che si vendicheranno!» Mamure alzò le spalle con un moto di supremo disprezzo. Gli appartenevano tutte. Le donne erano roba sua e lui non era di nessuna. Non appena avesse spremuto da loro la sua ricchezza e i suoi piaceri, le avrebbe gettate nel mucchio a coloro che avrebbero potuto spremerne ancora tanto da vivere. Era un disprezzo freddo e ragionato da meridionale e da speculatore. «Dunque, mio caro signore», domandò per venire a una conclusione, «volete accordarvi con me? L'affare dei terreni vi sembra fattibile?» Ma il barone, per quanto fosse quasi convinto, non volle prendere impegni. In fondo alla simpatia che a mano a mano si impossessava di lui, gli restava un dubbio, e stava per rispondere in un modo evasivo. Quando una insistente chiamata delle signore lo levò d'impaccio. Tra leggere risate si sentiva ripetere «Monsieur Moret! Monsieur Moret!» E siccome lui, indispettito di essere così interrotto, fingeva di non sentire, Madame de Beau, che si era alzata in quel momento, venne fin sulla porta del salotto. «Abbiamo bisogno di voi, Monsieur Moret! Bella cortesia nascondersi così per discorrere di affari!» Allora dovette decidersi. Fece finta di nulla, anzi si mostrò lietissimo di essere stato chiamato, con tegno di cui il barone fu stupefatto. Tutti e due si alzarono e andarono nella sala. «Ai vostri comandi, signore mie!» disse egli entrando sorridente nella sala. Fu accolto con un gran baccano di trionfo. Dovette farsi più avanti. Le signore gli fecero posto tra loro. Il sole era tramontato dietro gli alberi del giardino. Cadeva il giorno e un'ombra leggera a poco a poco invadeva la stanza. Era l'ora del crepuscolo che dispone gli animi a malinconia. Era quel minuto di discreta volutà che hanno gli appartamenti parigini tra la luce della via, che vi è meno, e i lumi che i servitori accendono in credenza. De Bove e Valagnoche, sempre ritti nel vano di una finestra, Monsieur Marti, che era entrato zitto zitto in quel momento, mostrava il suo profilo magro, un paltoncino misero misero ma pulito, un viso fatto livido dal tanto insegnare, e sconvolto, ora, anche più da quei discorsi che le facevano sui vestiti. «Dunque, si apre proprio lunedì questa vendita?» domandava appunto in quel momento la Marti. «Sicuro, signora», rispose Moret, con quella voce flautata ed attore che aveva quando parlava alle donne. E Riet ci mise bocca. «Ci saremo tutte! Dicono che prepariate cose meravigliose!» «Meravigliose, poi!» mormorò con aria di modesta vanagloria. «Io non faccio che cercare in ogni maniera di meritarmi le vostre lodi!» Ma le signore lo incalzavano con domande. La Bourdelet, la Guibal, Blanche stessa volevano tutte saperne di più. «Via, dateci dei particolari!» ripeteva Madame de Boves, con gran calore. «Non ci fate morire così!» E lo circondavano quando Henriette osservò che non aveva preso nemmeno una tazza di tè. Fu un affare serio. Si misero in quattro a servirlo, ma con la condizione che subito dopo avrebbe risposto. E Riet mesceva, la Marti teneva la tazza, la De Boves e la Bourdelet si disputavano l'onore di metterci lo zucchero. Poi, quando egli ebbe rifiutato di sedere e cominciò a sorseggiare il suo tè in mezzo a loro, tutte si avvicinarono di più, stringendolo nel cerchio delle loro sottane e gli sorridevano con la testa alzata, con gli occhi luccicanti. «Diteci un po' della vostra seta, della paradiso! Ne sono pieni i giornali!» riprese la Marti impaziente. «Oh!» rispose. «È davvero una cosa straordinaria! Una faie grossa, morbida, forte! Vedrete da voi, signore! E non la troverete che da noi, perché ne abbiamo avuto l'esclusiva!» «Ma davvero! Una seta bella a 5,60!» esclamò la Bourdelet fuori di sé dalla contentezza. «Non ci crederebbe nessuno!» Fin da quando era cominciato il lavoro della pubblicità, quella seta prendeva una parte non piccola nella loro vita di tutti i giorni. Ne discorrevano, parlavano già delle compere, tormentate dal desiderio e dal dubbio, e sotto quella ciarliera curiosità su cui puntava Muret, traspirava nelle sfumature diverse dei caratteri la comune bramosia di spendere. La Marti, maniaca, che comprava tutto al paradiso delle signore, senza nemmeno scegliere quel che vi inviene. La Ghibal, che passeggiava su e giù per delle ore senza comprare nulla, abbastanza contenta da pagare la vista. La Debove, in ristrettezze, sempre tormentata da voglie troppo grosse, piena di rancore per la roba che non poteva portare via con sé. La Bourdelet fiutava ciò che veramente si dava a buon prezzo, e col suo istinto di borghese pratica, si serviva nei grandi magazzini, ma con tale accorgimento di tranquilla massaia da spendere ciò che aveva risparmiato. E Riet, in ultimo, l'elegantissima Riet, che vi comprava soltanto pochi oggetti, i guanti e la biancheria della servitù. «Abbiamo anche altre stoffe, d'una bellezza e a un prezzo da non potersi dire», continuava Muret con la sua voce carezzevole. «Vi raccomando, per esempio, la nostra pelle d'oro, che è un taffetà ad un lucido che non ce n'è altri. Nelle sete fantasia ci sono dei colori e dei disegni che l'impiegato impegnato con le compere ha scelto tra mille. Vedrete che collezione! Ce n'è d'ogni sorta. Guardate che quest'anno sono di modi i panni. Ne abbiamo di trapunti, di quelli felpati. Non lo interrompevano più». Strette sempre più attorno a lui ascoltavano con la bocca dischiusa da un sorriso, col viso proteso innanzi, come se tutto l'esser loro si lanciasse verso il tentatore. I loro occhi si velavano. Correva loro per la nuca un leggero brivido. Ed egli, tra gli odori che salivano inebrianti dai loro capelli, restava composto nella sua calma da conquistatore, tra una frase e l'altra. Seguitava a sorseggiare a centellini il suo tè, e il profumo del tè faceva più miti quei forti odori che avevano un po' del selvatico. Nel veder quella seduzione così sicura di sé e tanto forte da scherzare con le donne senza mai pericolare, il barone Hartmann, che teneva gli occhi su Mure, sentiva crescere la sua ammirazione. «Ah, dunque si porterà il panno!» riprese Lamarty. «E il viso butterato le si abbelliva di civetteria. Bisognerà che dia un'occhiata anch'io!» La Bourdelet, che serbava negli occhi la consueta limpidità, soggiunse. «La vendita degli scampoli è il giovedì, non è vero? Aspetterò! Ho tutti i miei monelli da rivestire!» E, volgendo la sua bionda testolina alla padrona di casa, «Tu ti servi sempre della sauveur?» «Mio Dio, sì!» rispose Henriette. «La sauveur è un po' troppo cara, ma non c'è che lei a Parigi che sappia fare un vitino. E poi Monse Murea ha un bel dire. Ma lei ha i disegni più graziosi. Ha dei disegni che non si vedono da nessun'altra parte. Io non posso soffrire di vedere il vestito che ho io addosso a tutte le altre.» Murea sorrise dapprima discretamente. Poi lasciò capire che Madame Sauveur comprava proprio da lui le stoffe. Certo, prendeva anche direttamente dai fabbricanti dei disegni di cui acquistava la proprietà. Ma per tutte le sete nere, per dirne una, stava attenta alle occasioni del paradiso delle signore, pigliava l'ingrosso e rivendeva poi raddoppiando e triplicando i prezzi. «Io son sicuro che manderà a gente a portarci via tutta la paradiso. Perché volete che vada a pagare la seta alla fabbrica più cara di quel che gliela vendiamo noi? Noi, parola d'onore, la vendiamo a scapito.» Fu il colpo di grazia. L'idea di aver le merci a scapito accendeva in tutte quelle signore quanto c'è di avidità nelle donne, che sono sempre contente quando credono di rubare qualcosa al negoziante. Mouret sapeva che erano incapaci di resistere al prezzo tanto basso. «Ma se la roba la diamo via per nulla!» esclamava egli allegramente, prendendo sul tavolino che era dietro il ventaglio di Madame des Forges. «Guardate, questo ventaglio qui, io non so quel che costi.» «Venticinque franchi latrina e duecento la montatura», disse Henriette. «Latrina non è cara, eppure noi l'abbiamo per diciotto franchi, tale e quale, ma la montatura, cara signora, è proprio un furto, un furto schifoso. Mi incarico io di farne uno identico per novanta franchi.» «Lo dicevo io!» esclamò la burdele. «Novanta franchi!» sussorrò la Debov. «Bisogna proprio non avere un soldo in tasca per non comprare un ventaglio come questo!» Aveva preso il ventaglio e di nuovo lo esaminava con la figlia. Sul suo viso regolare, nei suoi grandi occhi insonnoliti, saliva la voglia repressa e disperata del capriccio che non le era possibile levarsi. Il ventaglio fece un'altra volta il giro delle signore, in mezzo a grandi esclamazioni e osservazioni. Debov e Valagnos erano in quel momento venuti via dalla finestra. Il primo s'era posto da capo dietro alla Gibal e con lo sguardo le frugava al busto, pur sempre conservando la sua aria da uomo che in società ci sa stare. L'altro si inchinava verso Blanche tentando di trovare un complimento. «Eh, però, un po' troppo seria, non è vero, signorina, quella montatura bianca con la riga di trina nera?» «Io», rispose lei gravemente, senza che un po' di rosso le colorasse il viso pienotto, «ne ho visto uno di madreperla con le penne bianche. Una cosa proprio virginale». Debov, che s'era certamente accorto delle occhiate disperate che sua moglie dava al ventaglio, mise al fine bocca nella conversazione. «Si rompono subito quei gingilli lì». «A chi lo dite?» aggiunse con una smorfia di Bella dai capelli rossi la Gibal facendola svogliata. «Mi sono stancata a forza di far accomodare i miei?» Da qualche minuto la Martì, eccitata da quei discorsi, volgeva e rivolgeva febbribilmente la sua borsetta di cuoio sulle ginocchia. Non aveva potuto ancora far ammirare le sue compere e moriva dalla voglia e da un bisogno quasi sensuale di metterle in mostra. E a un tratto si scordò del marito, aprì la borsetta e ne tirò fuori della trina sottile, avvolta intorno a un pezzetto di cartone. «Guardate un po' questa trina per la bambina. È alta tre centimetri, ma è proprio carina, non vi pare? Un franco e novanta!» La trina passò da una mano all'altra. Tutte le signore davano inesclamazioni di meraviglia. Mouret giurò che quelle guarnizioni le vendevano a prezzo di fabbrica. La Martì intanto aveva richiuso la borsa come per nascondere delle cose che non si possono far vedere. Ma a quelle lodi non poteva resistere e tirò fuori un fazzoletto. «C'era anche questo fazzoletto, un applicazione di Bruxelles. 20 franchi proprio per nulla!» E da quel momento la borsetta divenne inesauribile. Diveniva rossa dal piacere. E un pudore quasi da donna che si spogli la faceva graziosa insieme e imbarazzata ogni volta che tirava fuori una nuova cosa. Prima una sciarpa di trina spagnola che costava 30 franchi. Lei non la voleva da principio, ma il commesso le aveva giurato e spergiurato che era l'ultima e che il prezzo doveva crescere. Poi dopo veniva un velo di chantilly. Un po' caro a dir la verità, 50 franchi. Se non lo portava lei, qualcosa per la figlia ne avrebbe fatto. «Dio mio, sono tanto carine le trine!» badava a ripetere col suo sorriso nervoso. «Io, quando sono lì dentro, comprerei tutto il magazzino!» «E questo qui?» le domandò la debove esaminando uno scampolo di merletto in rilievo. «Questo qui?» rispose. «È una bellezza! 26 metri! Un franco il metro! Capite!» «Ma che ne volete fare?» domandò la burdelè stupita. «Non lo so mica, ma era tanto grazioso il disegno». In quel momento, alzando gli occhi, si vide di faccia il marito spaventato. Era diventato anche più livido di prima. Tutta la sua persona esprimeva l'angoscia rassegnata ad un pover uomo che assiste allo scialacqua dei suoi soldi guadagnati con tanta fatica. Ogni nuovo pezzettino di trina era per lui un disastro. Erano amare giornate di insegnamento inghiottite d'un colpo. Erano le sue corse nel fango della città da una lezione all'altra, divorati in un tratto, lo sforzo continuo della sua vita che lo conduceva a segrete angustie, all'inferno di una casa che sta su per scommessa. Vedendo quello sguardo sempre più atterrito, ella volle ripigliare il fazzoletto, la trina, il velo e la sciarpa, e gettava qua e là mani febbrili, ripetendo con un sorriso forzato «Mi farete sgridare da mio marito! Ti giuro, amico mio, che ho avuto giudizio! C'era uno sciallino da 500 franchi! Una meraviglia!» «Perché non l'avete comprato?» disse tranquillamente la guibal, «Messieu Marti è il più gentile degli uomini!» Il professore dovette piegare il capo, dicendo che sua moglie era padrona, padronissima di comprare quello che le piaceva. Ma ripensando al pericolo corso, un brivido freddo gli correva la schiena. E siccome Moret, proprio in quel momento, affermava che i nuovi magazzini aumentavano le comodità delle famiglie della media borghesia, gli lanciò un'occhiata terribile, il lampo d'odio ad un timido che non osa strangolare la gente. Le signore, d'altra parte, non avevano ancora posato letrine e se ne inebriavano. I rotoli si sgomitolavano, andavano e venivano dall'una all'altra, ravvicinandole ancor più e quasi stringendole insieme con sottili legami. Sulle loro ginocchia stavano letrine mirabili per la finezza del tessuto. E le mani loro, cedendo a quella carezza, vi si indugiavano e circondavano anche più strettamente Moret, tempestandolo di nuove domande. Il buio della sera si inoltrava, ed egli doveva ogni tanto chinar la testa, sfiorar con la barba alle loro capigliature, per esaminare una trina, indicare un disegno. Ma in quella molle voluttà del crepuscolo, in mezzo a quel profumo che saliva caldo dalle loro spalle, egli era sempre signore di sé e di loro, sotto quell'aria d'ammirazione che sapeva così bene fingere. Pareva anche egli una donna. E le donne si sentivano vinte e prese da quel senso delicato che egli aveva dell'intimo loro, e, sedotte, si abbandonavano. Certo di averle alla sua portata, Moret spadroneggiava brutalmente fra loro, come fosse redispotico degli stracci delle signore. «Oh, Messie Moret! Messie Moret!» balbettavano sommessamente le voci in fondo alle tenebre della sala. L'ultimo chiarore del cielo si estingueva negli ornamenti dei mobili. Soltanto le trine avevano ancora quasi un riflesso di neve sulle ginocchia delle signore che, in un gruppo confuso dove Moret era al centro, parevano altrettante devote inginocchiati intorno a lui. Un po' di luce splendeva ancora sul bricco. Una luce corta e viva da lume da notte, ardente in un'alcova fatta tiepida dai profumi del tè. Ma il servitore entrò con due lumi e l'incantesimo fu rotto. La sala apparve, lucente e gaia. La Marti riponeva le trine in fondo alla borsa, la Debove mangiava un biscottino, ed Henriette, che, se era alzata, discorreva a voce bassa col barone nel vano di una finestra. «È simpatico», disse il barone. «Non è vero?» le scappò, detto in un grido involontario di donna innamorata. Egli sorrise e la guardò con indulgenza paterna. Era la prima volta che la vedeva innamorata a quel modo. E, perché non era uomo da aversene per male o da patirci, provava soltanto compassione per lei che vedeva nelle mani di un volpone, tanto appassionato nei modi e tanto freddo nel cuore. Credette di doverla ammonire, e in tono di scherzo le mormorò «State attenta, piccina mia! Vi mangerà tutte quante siete!». Un lampo di gelosia illuminò i begli occhi di Henriette. Forse capì che Muret s'era servito di lei soltanto per far la conoscenza del barone, e giurò di farlo impazzire. Lui, il cui amore di uomo affaccendato aveva il fascino facile di una canzone gettata al vento, o rispose mostrando di scherzare anche lei, «è sempre l'agnello che prima o poi mangia il lupo!». Il barone, ridendo, la incoraggiò con un cenno del capo. Non poteva essere lei la donna che avrebbe vendicato e tutte le altre? Quando Muret, dopo aver nuovamente espresso a Balagnos il desiderio di mostrargli la sua macchina in moto, si fece avanti per congedarsi, il barone lo fermò nel vano della finestra davanti al giardino già nero per le tenebre della notte. Cedeva finalmente alla tentazione. La fede gli era venuta nel vederlo in mezzo a quelle signore. «Studierò l'affare», disse. «Se l'apertura delle vendite di lunedì è come voi dite, la cosa è bella e fatta». Si strinsero la mano. E Muret, tutto contento, se ne andò, perché non gli riusciva di cenare in pace se prima non aveva dato un'occhiata all'incasso del paradiso delle signore. Capitolo IV